Grazie, voglio subito ringraziare il commissario straordinario e l'amministratore delegato della società di Sfondo 2015 per l'apprezzamento che hanno voluto esprimere nei confronti ai volontari scientifici e per l'orguglio per il lavoro che il Comitato dovrà fare. Voglio subito assicurare loro, ma anche tutti voi, che il Comitato scientifico metterà il massimo impegno perché le scuole di Milano sia successo e sono sicuro che le scuole di Milano saranno grandi. Ovviamente ringrazio anche il segretario generale del BIE per il corregiamento che hanno voluto mandare e ringrazio anche tutti voi che siete presenti perché il Comitato avrà molto bisogno di voi per comunicare i contenuti scientifici del BIE. Sono già stati ricordati in funzione e compiti del Comitato scientifico da parte dell'amministratore del BIE per cui mi limito soltanto a presentare il Comitato e riserviamo un po' di un paio di osservazioni. Il Comitato è attualmente composto da 18 persone, 9 italiani e 9 stranieri, più il Presidente, la mia persona, il Vice Presidente, la persona, il Professore D'Antonio Masi, Scalasso, Dottor Raffa e il Segretario Generale, il Dottor Diano Gasperi, che ringrazio anche per l'attivazione di questo luogo. Nella componente straniera, e questo penso sia importante, sono rappresentate tutte le grandi allele geografiche del nostro pianeta in modo che possano essere ben presenti gli specifici problemi e le specifiche caratteristiche dei Paesi appartenenti a queste altre. Nel loro insieme, i membri del Comitato Scientifico offrono competenze in tutti i sottotemi in cui è stato articolato il tema generale delle scuole. Questo non vuol dire che siano sufficienti solo i membri del Comitato Scientifico per fornire tutte le risposte che ai problemi che verranno sottosti al Comitato, però i membri del Comitato hanno una serie di relazioni nazionali e internazionali, tali per cui, quando è necessario, non sarà difficile creare dei gruppi di competenza in modo che effettivamente le risposte richieste vengono fatte. Il Comitato Scientifico, mi piace sottolinearlo, si rapporterà solo con il mondo accademico e della ricerca e molti dei comuni del Comitato vengono da questo mondo, ma si rapporterà anche al mondo delle imprese perché l'Expo dovrà presentare per queste una grande opzione per mostrare le loro eccellenze scientifiche e tecnologiche. Sotto questo postiglio sono molto indietro che nel incontro che ci sarà tra poco sarà presente sia il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Presidente del Comitato Scientifico e per quanto riguarda la componente straniera vorrei citare soltanto due periodi, in particolare per Pinspoon Andersen che è un economista agrario World Food Times e padre dell'iniziativa 2020 Vision, il più ampio ed ambizioso programma di ricerca di informazioni e di sicurezza alimentare. Poi Joachim Tom Brown che è il Direttore Generale dell'International Food Policy Research Institute, la condizione di ricercare soluzioni sostenibili per porre fine alla fabbrica e malnutrizione. Poi Ronald Berger, questo per darci l'aspetto a tutte le competenze che sono presenti, Ronald Berger è Presidente della Berger Foundation per la difesa della dignità umana e il progresso dell'educazione, è l'esperto di strategie di sviluppo tecnologico e membro di organi consultivi di grandi azioni internazionali come il gruppo FIAT, Telecom Italia, Paglia, Lissoni, Nexto e poi Professor James che oggi è presente e che veramente rappresenta una grande autorità a livello mondiale del settore in cui ci parliamo. Per la componente italiana è già stato citato il nome del Vice Presidente Bussosa, Dornaglio, Sperascio e Mugnozza, è stato detto anche della sua Presidenza dell'Accademia Nazionale delle Scienze, la sua appartenenza alla Accademia degli Incendi, l'Accademia Nazionale dell'Agricoltura, è stato anche Presidente e a suo tempo del Vice Presidente della Conferenza dei Rettori dell'Università italiana. Credetemi, una grande autorità a livello mondiale. Però vorrei anche aggiungere che per gli altri settori, ambienti, biodiversità, biotecnologie, agroalimentari, nutrizione, salute, gestione delle risorse naturali, sicurezza dei territori, formazione e ricerca, storia e cultura dell'alimentazione, imprese sociali, ecco anche in tutti questi settori la componente italiana è una componente di persone di grande livello internazionale. Nella sua composizione il Comitato Scientifico è in l'ex Presidente del PIE, Gianni Mila, che la missione propria dell'Expo è di far progredire lo sviluppo civile dell'umanità in tre gole. La prima è dimostrare dove siamo arrivati, il secondo è di indicare i problemi con i quali dobbiamo confrontarsi nel prossimo futuro e il terzo è di indicare possibili soluzioni. Questa è la specie di tercorsi servizio globale e con l'utato dell'Ambra. Grazie. Grazie.